Il progetto MACBO, acronimo di Multitasking Atelier Creativo Bologna, è un progetto rivolto ad associazioni e realtà creative del territorio promosso dal Comune di Bologna e prevede un bando per la presentazione di proposte di riutilizzo di uno spazio in via del porto, nei pressi della Manifattura delle Arti, da destinare ad attività di innovazione e valorizzazione della creatività giovanile. Il progetto è stato presentato in occasione della sesta edizione del Bando Incredible il 18 settembre 2017, dalla vice sindaco Marilena Pillati. Il progetto MACBO è un progetto che il Comune di Bologna ha presentato insieme ad alcuni partner, ha ricevuto un importante finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ha come finalità quello di investire sulla creatività giovanile attraverso la riqualificazione di uno spazio urbano, in uno spazio che si colloca a Bologna, in un distretto particolare, diciamo al centro di importanti luoghi culturali e che dovrà vedere la partecipazione dei giovani nella riqualificazione di questo spazio, ma dovranno esserne definite le finalità e gli usi nell'ambito di quella che è la creatività giovanile. I giovani protagonisti nella fase di progettazione di uno spazio, nella definizione dei suoi usi e anche nell'uso di questi spazi che dovranno essere comunque connotati come luoghi, laboratori, promotori di creatività e di innovazione per i giovani. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Questo progetto che è davvero un investimento importante, uno dei tanti tasselli che in questa città hanno come finalità proprio quello di promuovere e sviluppare la creatività dei giovani. Grazie a tutti! Grazie a tutti!